L'unica colazione che non si mangia ma si ascolta. Colazione di lavoro. Evoluzione nel mondo dell'impresa. Digital Transformation. Risorse umane. Cambiare. Si può. Cambiare ed innovare. Si deve. Impruvo.com. Benvenuti su Colazione di lavoro, il podcast che vi racconta come la Digital Transformation sta cambiando il mondo del lavoro e delle imprese. Io sono Germano Veri. E io sono Giorgio Minguzzi. Gli strumenti digitali rappresentano nuove opportunità ma anche nuove sfide per le aziende e per il loro capitale umano. Nelle puntate di Colazione di lavoro parleremo proprio di questo e scopriremo insieme come trasformare i problemi in possibilità. Condivideremo con voi le nostre esperienze e vi porteremo anche i punti di vista di esperti di settore. E siccome il vostro tempo è prezioso saremo concreti e andremo dritti al punto. Certo e direi anche che manterremo una certa leggerezza perché non è detto che i temi seri debbano anche diventare noiosi. Sono d'accordo. Perciò imprenditori e manager che ci state ascoltando. Ma anche tutti voi che volete tenervi sempre aggiornati sulle novità che riguardano la gestione d'impresa e lo sviluppo organizzativo. Seguiteci su iTunes, su Stitcher o su Spreaker. Saremo online ogni martedì alle ore 12. Come? Ah vero! Non vi abbiamo ancora detto nulla di noi. Io sono Giorgio Minguzzi, aiuto le aziende a far crescere il proprio business attraverso strategie di marketing digitale e sono il chief marketing officer di Improvo. E io sono Germano Veri. Mi occupo da più di dieci anni di formazione aziendale e consulenza direzionale e sono founder e CEO di Improvo. Ecco a questo punto direi che è il caso di spiegare che cos'è Improvo. Certo. Improvo, scritto Improvo con due o punto com, è la piattaforma che fa incontrare domanda e offerta di formazione aziendale. Ma non è un marketplace della formazione. Né un catalogo di corsi online. Infatti, attraverso Improvo le aziende possono pubblicare richieste specifiche e dettagliate e i formatori possono rispondere confezionando proposte su misura che poi le aziende valuteranno. Ma torniamo un attimo a colazione di lavoro. Nelle prossime puntate parleremo di smart working, welfare aziendale, induction training, ma anche di strumenti che possano semplificare la vita degli HR manager e molto altro. Saremo con voi ogni martedì alle ore 12. Iscrivetevi su iTunes, Stitcher o Spreaker per non perdervi neanche un episodio di colazione di lavoro. Trovate tutto su colazione di lavoro punto com. Ripeto, colazione di lavoro, scritto tutto attaccato punto com. Grazie per essere stati con me Germano. Vi aspettiamo martedì prossimo alle 12 con la prima puntata sul welfare aziendale. Ciao! Improvo punto com. Colazione di lavoro. L'unica colazione che non si mangia ma si ascolta. Colazione di lavoro. Evoluzione nel mondo dell'impresa. Digital transformation. Risorse umani.